Buongiorno a tutti, sono Elena Giglia, lavoro all'Università di Torino, sono responsabile dell'ufficio accesso aperto. Mi scuso veramente moltissimo per non poter essere con voi a Genova oggi, ma la mia schiena ancora non me lo consente. Questo è quello che cercheremo di vedere oggi, vi chiedo scusa anche per la qualità del video che ovviamente è girato in casa e cercherò di non annoiarvi, come vedete vi ho messo tutte le mie foto che sono molto colorate, quindi insomma spero di tenere destra la vostra attenzione nei prossimi dieci minuti. Qualche messaggio importante da portare via. Allora l'open access e l'open science sono una opportunità e non una minaccia, mentre in Italia purtroppo vengono ancora visti davvero come un qualcosa di grave. Il valore dell'apertura è fondamentale come potenziale, al di là dei ritorni immediati. Negli anni scorsi si è sempre parlato di open access come di qualcosa che fa crescere le citazioni. Va bene, ma se poi non fa crescere le citazioni allora non ha nessun valore? No, assolutamente no. Quel signore che vedete nella foto è Tim Berners Lee, colui che ha inventato il protocollo HTTP. Il protocollo HTTP è nato al CERN di Ginevra dove lui lavorava come un protocollo interno per lo scambio di documenti fra i gruppi di lavoro. Ora potete voi immaginare la nostra vita oggi se il CERN e Tim Berners Lee avessero deciso di tenere chiuso il protocollo HTTP, come era all'inizio. La nostra vita sarebbe veramente diversa. L'open access e l'open science sono degli strumenti. Il fine ultimo qual è? Una scienza migliore, una scienza più trasparente, una scienza più solida. Questo va ricordato, non è un obiettivo in sé mettere i propri lavori in accesso aperto. Open science e open innovation hanno un legame stretto e su questo sta puntando molto, come vedremo, l'Unione Europea. Fare open access e farlo correttamente è molto semplice, ma per questo ovviamente vi lascio ai miei capitoli nel libro che vi spiegano proprio tecnicamente come fare. Cominciamo a vedere. Quello che vorrei farvi vedere oggi è un approccio un pochino critico al sistema di comunicazione scientifica. Non è un caso che io abbia intitolato al mio intervento Un altro mondo è possibile. Io ho proprio la sensazione in questo momento, non so se vi ricordate quel film di Kusturitsa Underground. Ecco, io ho la sensazione soprattutto in Italia che stiamo vivendo così, in una cantina in cui l'Anvur ci fa credere che la comunicazione scientifica, la valutazione della ricerca siano in un certo modo. Io credo che siano profondamente diverse. Di fatto oggi noi col sistema delle riviste e degli abbonamenti che cosa stiamo facendo? Stiamo pagando gli editori commerciali perché mettano sotto chiave il nostro contenuto. Ce l'ha ricordato anche John Tennant, vi ho messo tutti i riferimenti ovviamente nelle slide che poi Silvia e Anna vi faranno avere. Noi oggi spendiamo un terzo del budget totale della ricerca per pubblicare e comunicare risultati che il 99% delle persone non può leggere. Vi sembra che abbia un senso? Secondo me no. Se no non si spiegherebbe il successo planetario di Shiaab. Shiaab è il sito pirata, questa ricercatrice dell'Uzbekistan che va a rubare i pdf nei siti degli editori o nei siti degli atenei. Il problema è che tutti lo usano, tutti. Guardate questa mappa. Anche negli stati in cui apparentemente, come ci fanno credere gli editori commerciali, non c'è nessun problema di accesso. Noi abbiamo accesso a tutto quello di cui abbiamo bisogno. Non è assolutamente vero. Anzi, il fatto che tutti i ricercatori del mondo usino Shiaab significa, come vedete evidenziato qua, che forse l'attuale modello di comunicazione scientifica basato sugli abbonamenti non è più sostenibile. C'è qualcosa di incrinato, c'è qualcosa di rotto a mio modo di vedere. Se voi pensate a com'è la comunicazione scientifica in questo momento, sempre Yonten Antalondra, ci ricorda che sì, sì, sicuramente si sta adattando al web del 1995. Perché se pensate a quello che vi danno gli editori commerciali, che cos'è? Poco più di un pdf online. In realtà il web oggi è veramente molto, ma molto di più. Per tutta questa serie di motivi, cioè i prezzi non più sostenibili, il fatto che questi abbonamenti siano completamente blindati, il fatto che ci sia un certo bias nelle pubblicazioni, lo vedremo dopo, che ci siano delle misure di impatto non reali e che ci sia un sistema assolutamente di monopolio nella comunicazione scientifica, ci fa dire che la comunicazione scientifica oggi sia veramente un pochino incrinata, diciamo così. Questo ricercatore invece olandese, che si occupa appunto di cercare le frodi scientifiche all'interno degli articoli pubblicati, usa un termine che io non oso tradurre, ma che chissà l'inglese è screwed up. La comunicazione scientifica come la conosciamo oggi è screwed up. Perché? Vediamo molto in breve. La rapidità di pubblicazione. Allora andiamo dai 9 ai 18 mesi. Ha un senso oggi, nell'epoca del web, in cui se io posto un qualsiasi cosa su un social network, su un blog, su un qualsiasi sito, nel momento in cui io faccio click si vede anche in Nuova Zelanda, hanno senso ancora 9-18 mesi di pubblicazione. Parliamo della peer review. La peer review è sempre stata vista come il sigillo di qualità dell'attuale comunicazione scientifica. Andatevi a vedere questo blog, Retraction Watch, ogni giorno ci sono ritrattazioni, qui c'è anche una classifica degli autori che hanno più articoli ritrattati, per frode scientifica. Cosa si intende frode scientifica? Dati manipolati, dati falsi, addirittura dati completamente inventati. Perché? Perché se c'è la pressione a pubblicare e c'è la pressione a pubblicare in riviste col più alto impact factor, guardate questo grafico, questa è la correlazione fra il numero di ritrattazioni e l'impact factor della rivista. Perché è chiaro che se io devo fabbricare dei dati per essere pubblicato, li falsifico per essere pubblicato su Nature, non sul bollettino della parrocchia di Canicattì. L'impact factor, che tutti ci fanno credere sia il migliore sistema di valutazione della ricerca nel mondo, guardate questi dati. L'impact factor è una misura che è assolutamente falsificabile anche a monte. Questo è il Journal Citation Reports. Voi vedete che se io cambio il numero di articoli per cui divido, lo vedete la formula dell'impact factor, divido il numero di articoli pubblicati, chiaramente cambia il risultato. Questo è successo con Current Biology fra l'edizione del 2002 e l'edizione del 2003 di Journal Citation Reports. Perché in un anno il numero per cui andava diviso era 300 e l'altro anno era 528. Quindi cambia assolutamente il risultato. Tant'è vero che sempre John Tennant ci ha ricordato che l'impact factor, di nuovo non traduco per decenza, is a bullshit statistics e che chi usa l'impact factor per valutare la ricerca è statistically illiterate. La valutazione. Io parlerei di ossessione per la valutazione. Vi ho riportato alcune citazioni di un workshop che si è tenuto alla Royal Society of London nel 2015, quindi non è un talebano dell'accesso aperto che parla, ma sono i ricercatori e gli scienziati della Royal Society of London. Perché facciamo scienza? Non è per creare carriere per gli scienziati. Se questo diventa l'obiettivo primario della scienza c'è qualcosa di sbagliato nel modo in cui organizziamo e motiviamo le carriere anche dei ricercatori giovani. Non solo abbiamo sbagliato nel dare incentivi corretti, ma abbiamo dato incentivi perversi. Qui Royal Society che parla. E qui parlando dell'impact factor ovviamente ricorda la Good Earth Law, quando una misura diventa un obiettivo cessa di essere una buona misura. Ovviamente ci stiamo riferendo all'impact factor. E quindi forse, forse, allontanarsi da questa ossessione per la misura e tornare a un sano giudizio potrebbe essere un passo avanti. L'efficacia di questo nostro sistema. Voi sapete che ogni ente di ricerca nel mondo paga la ricerca quattro volte, primo perché stipendi al ricercatore, qui le battute va bene, si sprecano, finanzia la ricerca e anche qui le battute si sprecano, però di fatto c'è un pagamento anche qui. Nel momento in cui qualsiasi ricercatore pubblica su una rivista, l'ente deve, se vuole leggere quello che ha scritto il suo ricercatore, deve pagare l'abbonamento alla rivista. Ora sapete quanto spende il mio Ateneo ogni anno in abbonamenti? Due milioni e centomila euro ogni anno in abbonamenti alle riviste. Ha un senso? Secondo me no. Quando ci sono riviste, questi vedete sono i prezzi medici, sono riviste che costano 5 mila, 10 mila euro e poi bisognerebbe pagare anche i diritti di riuso, ma di questo vi parlerà l'avvocato Aliprandi. In tutto questo il costo delle riviste è cresciuto negli ultimi vent'anni del 402%, credete che i budget delle biblioteche siano cresciuti del 402%? Ovviamente no, quindi abbiamo dovuto tagliare molti titoli e questo che cosa vi porta? Come ricercatori a una minore possibilità di leggere e come autori a una minore possibilità di essere letti, perché tutte le biblioteche nel mondo stanno tagliando abbonamenti. Ha un senso questo nell'era di internet? Di nuovo, secondo me no. In tutto questo il guadagno netto del maggiore editore scientifico, cioè Elsevier, è il 38%, l'amministratore delegato due o tre anni fa ha guadagnato 4 milioni e mezzo di euro su un lavoro, e questo ci siamo dimenticati finora di dirlo, su un lavoro che voi ricercatori date gratuitamente, sia come autori, sia come revisori. Di nuovo, ha un senso tutto questo? A mio modo di vedere no, vi consiglio la lettura di questo articolo uscito a settembre che è veramente molto molto interessante. In tutto questo, l'abbiamo già ricordato, se c'è una eccessiva pressione a pubblicare c'è il doping, come ci ricorda il professor Gedon, cioè si falsificano i dati, perché pur di pubblicare si falsificano i dati. Questo a che cosa porta? Al fatto che non c'è più fiducia, perché se quello che viene pubblicato è falso, c'è una sorta di corruzione nel sistema scientifico attuale. E allora che cosa arriviamo? Questa è l'unica foto, chiaramente che non è mia, è l'uragano Irma. Ah sì, certo, il pianeta è stato distrutto, ma per un meraviglioso momento nel tempo abbiamo creato un molto valore per i nostri azionisti, perché questo di fatto è diventata la comunicazione scientifica oggi, un grande mercato, ma ha senso che la comunicazione scientifica sia un grande mercato? A mio modo di vedere no. Intanto in Europa c'è stato questo gruppo di lavoro sulla European Open Science Cloud, di cui parleremo fra poco, che secondo me sintetizza perfettamente le storture del sistema attuale. I ricercatori, i finanziatori della ricerca e gli editori, parentesi, ho sempre pensato che questo volesse dire, perché in inglese ovviamente è publishers, quindi che pubblicare volesse dire rendere le cose pubbliche, si tengono stretti in un abbraccio mortale, continuando a condurre, pubblicare, finanziare e giudicare la scienza nello stesso modo in cui si faceva nel secolo scorso. E finora nessuno sembra riuscire a rompere questo abbraccio mortale. Secondo me sì, cioè c'è un altro modo, c'è un altro modo che è appunto quello della Open Science. L'Open Science significa che tutti possono usare, modificare, condividere per ogni motivo, significa anche che la scienza deve essere al servizio dell'innovazione e della crescita. Vedete che l'accesso aperto è solo una piccola parte dell'Open Science, l'Open Science dipende da menti aperte, questo ce lo ricorda Nili Cruz, ex vicepresidente della Commissione europea. E soprattutto essere aperti e trasparenti è una pratica, è una prassi quotidiana, non è un check box alla fine della giornata. Questo video ha anche 4 minuti, ve lo consiglio caldamente, un laboratorio canadese che mette tutti i suoi dati, è un laboratorio di neuroscienze, tutte le sere mette i suoi dati aperti in rete, nella convinzione che se sono condivisi qualcuno troverà una soluzione e una cura prima. Anche questo video un minuto e mezzo vi spiega qual è il vantaggio di rendere tutto aperto. In realtà la scienza aperta ha dei principi che sono ovviamente di tipo sociale e culturale, quindi l'inclusione, l'uguaglianza, il fatto di poter rendere conto la libertà, eccetera, ma ha anche dei principi tecnici, cioè il rigore, la trasparenza, la riproducibilità, questo acronimo FAIR che vuol dire che i dati devono essere findable, accessible, interoperable, reusable. Come ci ricorda sempre Yon Tennant in questo video che veramente vi consiglio di guardare, la Open Science è solo buona scienza, perché i principi dell'Open Science sono quelli di una scienza solida. L'Europa ci sta credendo molto, in Horizon 2020 vedete appunto che l'Open Science viene collegata all'Open Innovation, quindi a benefici per la società intera, tant'è vero che dall'inizio di quest'anno il principio chiave in Horizon 2020 è as open as possible, as close as necessary, cioè tutto deve essere aperto a meno che non ci sia proprio una necessità per chiudere. Open Innovation, Open Science, Open to the World è il mantra del nostro commissario Moedash, quindi commissario all'innovazione e alla ricerca, bisogna distruggere i silos della ricerca, quindi andare verso una ricerca che sia più interdisciplinare, questo non si può fare se la ricerca non è aperta, e come ci ricorda appunto il commissario Moedas abbiamo la possibilità di dare un'altra forma al futuro e il futuro migliore possibile è un futuro aperto. Come vedete questo Open Science Monitor sempre della Commissione Europea c'è l'accesso aperto alle pubblicazioni, ma ci sono anche gli Open Research Data e Open Scholarly Communication, cioè si tratta di un modo diverso di concepire tutto il ciclo della ricerca e tutto il ciclo dell'insegnamento. Questo sta succedendo in Europa, non su un altro pianeta, in Italia siamo anni luce indietro. In Europa, a luglio, sono stati anche pubblicati due nuovi rapporti, uno sull'inclusione, diciamo sul riconoscimento delle pratiche Open Science nella valutazione della ricerca, è un report, naturalmente in Italia completamente sconosciuto, e un altro report di settembre sul fatto che bisogna insegnare ai ricercatori le competenze che servono per fare Open Science. In autunno dovrebbe partire anche la nuova piattaforma di pubblicazione, perché in Commissione Europea si sono resi conto che l'anello debole della catena è effettivamente questo mercato ed è la presenza degli editori commerciali. Quindi dovrebbe partire, come è già partita per il Welcome Trust in UK, una piattaforma europea di pubblicazione. C'è anche sempre nel mondo open un altro modo di fare peer review, c'è la open peer review, vi raccomando questo studio che fa vedere tutte le implicazioni della open peer review, c'è un altro modo di comunicare, sta nascendo un enorme movimento in tutte le discipline verso i preprint, quindi rendere la ricerca disponibile appena, appena viene terminata. C'è un, come dire, di nuovo altre spinte verso la open peer review, e un altro modo di scrivere, ci sono modi collaborativi di scrivere, avete mai sentito Autorea, Overleaf, c'è un modo per rendere i grafici interattivi, ci sono modi per collaborare online, quindi gruppi di ricerca online, c'è un modo per annotare il web, sia con Hypothesis sia con Pandit. Ci sono altri contenuti, su GitHub si possono depositare i software, su Zenodo si possono depositare i dati, i dati di base della ricerca, quelli che sottendono agli articoli pubblicati, su Figshare si possono pubblicare grafici, di nuovo dati, su MyExperiment si può pubblicare tutto l'intero protocollo dell'esperimento, su una rivista come Rio, Research Ideas and Outcomes, si può pubblicare tutto, addirittura, la proposta di grant di ricerca, che senso ha voi di rete? Non me l'ha finanziato un ente di finanziamento, potrebbe finanziarmelo un altro. È necessario, ma anche qui in Italia siamo anni luce indietro, una nuova infrastruttura per i dati, qui questi dati che devono essere FAIR, quindi Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, c'è questo progetto europeo, LEARN, in cui ci sono una serie infinita di strumenti utili per la gestione dei dati della ricerca, come anche su questo sito del DCC, Digital Curation Center scozzese, ha una marea, una marea veramente di strumenti utili, anche per la gestione dei Data Management Plans, che come sapete sono necessari per tutti i progetti finanziati in Horizon 2020, sono necessari entro i primi sei mesi. In Italia con altre università abbiamo cercato negli ultimi due anni di tenere dei corsi su questi argomenti, che ci sono, come dire, abbastanza ancora ignoti, trovate tutto sul sito oaunito, vi ho messo qua i riferimenti, e recentemente l'Università di Milano, Paola Galimberti e Venezia, Marisò Loccioni, hanno redatto un modello italiano per il Data Management Plan, anche qui trovate tutti i riferimenti. Perché tutto questo dovrebbe interessarci? Perché in questi giorni, l'altro ieri è finito, il primo incontro operativo sulla IOSC. Che cos'è IOSC? European Open Science Cloud. È questo cloud della ricerca che dovrebbe mettere in relazione chi fornisce i dati con chi poi li riusa, cioè le aziende, altri ricercatori, altri medici, eccetera. Perché questa cosa dovrebbe minimamente interessarci in Italia? Perché nei prossimi anni l'Unione Europea investirà 4,7 miliardi di euro in questo. L'Italia è completamente assente a questo incontro di apertura di giugno e anche all'incontro che c'è stato appunto il 28-29 novembre 2017. A livello istituzionale, a livello ministeriale, l'Italia è completamente assente. Questo significa che nei prossimi anni probabilmente noi saremo fuori dal futuro della ricerca in Europa. C'è anche, e vi consiglio anche questo articolo, un'altra idea di università, cioè l'università aperta. Questa è Erin McKiernan, di nuovo una delle voci principali nell'ambito dell'Open Science. Una università aperta che sia inclusiva e che crei veramente una società della conoscenza e non una società di chi pubblica di più sulle riviste con alto impact factor. Ovviamente un altro mondo è possibile, come ci ricorda l'Amsterdam Call for Action on Open Science, se, guardate quali sono le dodici azioni richieste dall'Amsterdam Call for Action on Open Science dell'anno scorso, se si cambiano le regole di valutazione, se si crea trasparenza sui costi e le condizioni degli abbonamenti e se si introducono i principi FAIR per la condivisione dei dati. Queste sono le dodiziazioni, anche queste negli altri stati europei i governi stanno facendo qualcosa, in Olanda, in Finlandia, in Norvegia ci sono già dei piani nazionali per l'Open Science, in Italia stiamo ancora a chiederci se dobbiamo fare o non dobbiamo fare Open Access. Open Access, veramente molto brevemente, perché lo trovate e trovate anche questo tutto nel libro, significa accesso aperto, immediato, libero da ogni restrizione ai risultati e ai dati della ricerca scientifica, qui c'è la dichiarazione di Berlino, vi prego di notare la parte sottolineata, dove dice, for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship, quindi l'unico vincolo è la corretta attribuzione di paternità intellettuale, non è plagio, questo è uno dei falsi miti più diffusi in Italia, l'Open Access non è plagio. I pilastri dell'Open Access sono che la conoscenza è un bene comune, credo possiamo essere tutti d'accordo, la comunicazione scientifica è una grande conversazione più aperta e più ricca e soprattutto, questo è quello su cui si basa, il principio su cui si basa, credo anche il vostro regolamento all'Università di Genova, sull'Open Access, i risultati delle ricerche finanziate con i fondi pubblici devono essere pubblicamente disponibili. Ci sono due modi per fare Open Access, io insisto molto sul primo, quello che viene chiamato Via Verde, che è quello che voi avete a disposizione nel vostro archivio Iris fornito dal Cineca, cioè si deposita in un archivio Open Access la versione finale dell'articolo ovunque esso sia stato pubblicato nel rispetto delle norme di copyright dell'editore. C'è una banca dati che si chiama Sherpa Romeo, ma tutto questo, vi ripeto, è spiegato nel libro e lo sanno sicuramente tutte le vostre colleghe in biblioteca. La seconda via è quella di pubblicare su una rivista Open Access, anche qui c'è un mito da sfatare, solo il 23% delle riviste Open Access chiede una spesa di pubblicazione e va ricordato che a fronte della spesa massima di pubblicazione, che sono 1.900 euro in una rivista ad accesso aperto, il costo attuale nel sistema di abbonamenti medio per un articolo sono 5.000, facendo il conto appunto di quanto pagano tutte le istituzioni e dividendolo per il numero di articoli pubblicati. Quindi non è vero che l'accesso aperto è più caro. I vantaggi del deposito, quindi della Green Road, è fattibile subito a costo zero. Continuate a pubblicare sulle riviste di riferimento perché fino a quando, come abbiamo detto, non cambiano i criteri di valutazione, è ovvio che uno non è masochista, quindi se deve diventare professore associato, professore ordinario, deve attenersi a quei criteri di valutazione. Poi lo depositate, quindi pubblicate e poi lo depositate. Perché in un archivio open access? Perché l'archivio open access assegna un identificativo univoco e assicura la conservazione nel lungo periodo. Non pensiate che strumenti come Accademia d'Otidu e come ResearchGate siano archivi open access. Non lo sono, da questa tabella è veramente molto chiaro. In più, su ResearchGate e su Accademia d'Otidu si viola sistematicamente il copyright, tant'è vero che a settembre gli editori commerciali hanno mandato una bella letterina dall'avvocato a ResearchGate. ResearchGate ha dovuto chiudere milioni di articoli, se no minacciavano di fare causa. Se voi depositate, rendete possibili nuovi servizi, tipo Unpaywall, che è un'estensione per Firefox che vi consiglio di scaricare, oppure l'open access button. Cosa significa? Che nel momento in cui qualsiasi ricercatore si trova davanti a quello che gli inglesi chiamano il paywall, quindi il muro che impedisce l'accesso, cioè vi viene chiesto di pagare 30, 35, 40 euro per un articolo, per scaricare un articolo cui non avete abbonamento. Se voi avete questi due servizi, questi due servizi vanno a cercare sul web se esiste una copia legale, quindi non sciab, se esiste una copia legale depositata dall'autore nel suo archivio aperto. Quindi, come dire, è una specie di mutuo soccorso. Se voi depositate i vostri lavori, attraverso questi servizi, tutti gli altri ricercatori potranno leggerli. C'è sempre un modo per fare open access e questo non rovina la vostra carriera. Abbiamo già visto che non è vero che è troppo caro e qui avete questa bellissima infografica sempre di Yon Tennant con tutti i modi in cui potete fare open access in modo libero e legale. Open App è di nuovo un hub, quindi un sito ricchissimo di strumenti che possono servirvi per fare accesso aperto. E per finire, le parole di Nili Kroos, abbiamo già detto, ex vicepresidente della Commissione Europea, la cosa migliore di internet è che è aperta, ci permette di condividere e di innovare. Nella scienza l'apertura è fondamentale. L'open science non significa ignorare la realtà economica. Certo abbiamo bisogno di modelli di business sostenibili, ma questo non significa che dobbiamo continuare a fare le cose nello stesso modo in cui le abbiamo sempre fatte. Quindi ovunque voi siate nella catena di valore, che siate un ricercatore o un finanziatore della ricerca o un policy maker, quindi un decisore politico, il mio messaggio è chiaro. Investiamo in strumenti collaborativi che ci consentono di progredire, buttiamo giù i muri che tengono la conoscenza rinchiusa e rendiamo la scienza aperta. Quindi anche questo è il mio messaggio finale e vi auguro buon lavoro. Se avete bisogno di contattarmi, se avete bisogno, se avete desiderio di approfondire questi temi, ovviamente ci va una giornata di studio, una giornata di formazione, io sono a vostra disposizione. Grazie mille per l'attenzione e arrivederci.